buonasera amici buonasera tutto under construction questa sera la nostra mukbang sarà fatta con la torta 900 sbagliata fatta qui a casa metticelli eccoci qua sul nostro canale youtube eccoci alla fine abbiamo optato per mantenere le mukbang anche ad agosto come sapete è inutile da nascondere intrascendibile che tanti youtuber perdono visualizzazione noi siamo proprio all'inizio quindi abbiamo preparato i nuovi argomenti ma li tratteremo poi a settembre quando ripartirà tra virgolette ufficialmente la stagione ma siamo in piena challenge quindi preferiamo comunque anche esserci anche se con pochi minuti allora notte prima del green pass da domani si comincerà ad avere qua non sono assolutamente per dire se sono pro contro questa cosa ma sono qua per mangiare un pezzo di torta ed essere dispiaciuto che notte prima del green pass doveva essere un evento che avremmo fatto tutti insieme al castello di san giuseppe qui di brea ma sicuramente lo recupereremo però ovvio non potremo chiamarlo notte prima del green pass questo è proprio un peccato per chi lo avesse non è difficile io ho scaricato per comodità lavorative tanto tempo fa l'app io e con la credenziale con lo speed sono entrato però ho notato anche per i miei genitori che con la carta di identità elettronica è la prima parte del pin che ti viene data in comune quando ti danno la carta di identità e poi quella la seconda parte che ti arriva a casa si riesce comunque ad entrare e ad avere ora io non so dove servirà dove non servirà i casini che ci sono da domani ma questo è tutto un altro discorso però sicuramente cercheremo ancora qualche ospite magari vacanziero per completare le nostre mukbang che tanto ci hanno accompagnato in questi mesi il giovedì come vedete siamo quasi a 4000 iscritti per questo vi dobbiamo solamente ringraziare perché è un bel traguardo arrivare quasi 4000 iscritti quando all'inizio dell'anno la gara era arrivare a 1000 e riuscire a arrivare anche alla monetizzazione del canale quindi devo dire che sono molto soddisfatto infatti il video di oggi è molto casalingo sigla di inizio transizione comunque che parlo per i minuti che servono per mangiare questa fetta di torta e poi l'appuntamento sarà per domani con i quattro chiacchiere guardate solo che crema fatta in casa qua non c'è nulla di industriale spettacolo questa torta la 900 sbagliata perché qua vivremo come sapete c'è la torta 900 quindi poi sono delle versioni fatte anche in casa dicevo ringrazio un sacco per l'amore il calore l'affetto e soprattutto per seguire questa avventura e per essere una crew sempre in crescita questo mi fa davvero piacere si sa come sempre tutti che in estate c'è il calo ma noi andiamo avanti andiamo avanti road to 365 video uno al giorno per tutto 2021 e no lo smetteremo nel 2022 però ovviamente avremo altri obiettivi sempre con i video e con i contenuti detto questo mi raccomando ricordatevi che da domani ci sarà questa bella avventura con il green pass noi del mondo della notte praticamente tra contiamo subito tra tra meno di 20 giorni sarà un anno e mezzo che siamo fermi non siamo mai ufficialmente ripartiti anche se c'è qualcosa sotto ventite spoglie però io parlo sempre la luce del sole non c'è completamente la libertà e quindi questo mi dispiace assai come si dire vedremo vedremo cosa succede io ho voluto condividere un momento dolce un momento personale siamo voi di intimità mangiando la torta della mamma che è la cosa più buona è la cosa più bella vi ringrazio domani vi ricordo come sempre uscirà il video come state notando non usciamo sempre alle 14 abbiamo sempre degli orari un po vari apposta per farvi compagnia quando tornate dalla spiaggia o prima che andate a fare l'ape insomma signori grazie di tutto mi raccomando iscrivetevi attivate la campanella come sempre in bio trovate tutte le info del caso a domani ciao